ciao a tutti e bentornati sul mio canale in questo nuovo video vi spiego come realizzare un match tap che è un capo di abbigliamento giovanile ma soprattutto molto molto facile da realizzare iniziamo subito vedendo quali sono i materiali necessari per quanto riguarda il filato io ho optato per il fiocco che è un cotone al cento per cento qui l'ho lavorato in azzurro mentre nel video di oggi lo faremo bianco un uncinetto numero 4 una forbice e un ago prima di iniziare vi spiego come è sviluppato il progetto lavoreremo inizialmente un pannello rettangolare per la parte davanti e dietro il pannello è singolo e realizzeremo semplicemente l'apertura per il collo dopodiché lavoreremo le maniche andando a chiudere leggermente qui sul lato e lavoreremo poi le maniche semplicemente in cerchio fino ad arrivare al polso la misura del progetto nel video è una s se lo volete adattare ad altre misure dovete semplicemente partire dalla larghezza delle spalle quindi da un punto all'altro prendete la misura e lo adattate qui noi lavoreremo su 42 centimetri circa facciamo il nostro nodino iniziale e andiamo ad iniziare il nostro pannello lavorando 94 catenelle realizzate le nostre 94 catenelle carichiamo il filo e andiamo a puntare l'uncinetto nella sesta catenella dall'uncinetto quindi 123456 ma non davanti bensì qui dietro e lavoriamo una maglia alta una catenella saltiamo una catenella di base andiamo nella seconda sempre nel retro nuovamente una maglia alta catenella carichiamo il filo saltiamo quella subito successiva andiamo nella seconda sempre lavorando sullo retro e continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del nostro giro il nostro primo giro è concluso ora realizziamo 3 catenelle che corrispondono ad una maglia alta e una catenella di separazione voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta del giro precedente e una catenella di separazione dove abbiamo le catenelle di separazione quindi è uno schema molto molto semplice da realizzare continuiamo così fino alla fine del giro e ogni giro si ripeterà in questo modo iniziando con 3 catenelle e maglia alta su maglia alta scatenella di separazione su catenella di separazione lavorati 19 giri ho ottenuto l'altezza che desideravo che è di circa 18 centimetri a questo punto possiamo quindi lavorare quello che è lo scollo semplicemente andremo a lavorare 1 2 3 4 5 6 blocchi come su marca punto di maglia alte 65 catenelle e qui nuovamente o 1 2 3 4 5 e 6 blocchi iniziamo quindi con le nostre 3 catenelle voltiamo il lavoro e lavoriamo fino a dopo posizionato il marca punto per comodità è un progetto che si lavora anche abbastanza velocemente proprio per il tipo di punto utilizzato eccoci qui allora togliamo il marca punto la maglia alta ed ora 65 catenelle ho realizzato le 65 catenelle carico il filo e vado a lavorare una maglia alta dove ho il mio marca punto che mi ero dimenticata di dirvi che sarebbero serviti a inizio video e proseguiamo terminando il giro con catenella maglia alta e così via abbiamo creato quindi quella che è l'apertura del nostro collo quello che dobbiamo fare ora semplicemente è lavorare nuovamente il pannello che abbiamo lavorato per il davanti quindi arriveremo qui alla nostra maglia alta e faremo catenelle separazione maglia alta catenelle separazione maglia alta e così via e riformeremo un pannello esattamente identico a quello lavorato finora così come abbiamo fatto per l'avvio le nostre maglie alte le lavoriamo non frontalmente ma nell'asolina posteriore del punto terminati anche gli altri 19 giri possiamo ora procedere con le maniche come potete vedere ho già realizzato la prima quello che dobbiamo fare è piegare bene a metà il nostro pannello e andiamo a cucire con l'uncinetto facendo delle maglie bassissime 1 2 e mezzo due quadratini e mezzo due file in mezzo entriamo nella catenella all'angolo prendiamo il nostro filo lo facciamo passare attraverso e facciamo un nodino in questo modo realizziamo ora una catenella rientriamo nello stesso punto sistemiamo un attimino e rientriamo entriamo anche nel punto speculare quindi dall'altro lato che a questo qui all'angolo facciamo una maglia bassissima ora come vi ho anticipato proseguiamo realizzando le maglie bassissime fino a chiudere due quadrati e mezzo ecco qui ora realizziamo una maglia bassissima in corrispondenza di questa riga d'ora in poi partirà quella che è la lavorazione delle nostre maniche questa maglia bassissima la fate solo su una riga non prendendo anche quella posteriore quindi ripartiamo con le nostre 3 catenelle carichiamo il filo entriamo ora in corrispondenza della riga successiva e realizziamo la nostra maglia alta catenella di separazione carichiamo il filo entriamo in corrispondenza della riga successiva e e facciamo questa lavorazione per tutta per tutto il giro quindi andiamo poi a creare la ma concludiamo il giro con una maglia alta qui alla terza riga una catenella e chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda catenella di avvio del giro ecco qua abbiamo chiuso la nostra manica quello che facciamo ora è lavorare nuovamente 3 catenelle e e voltiamo il lavoro quindi andremo a lavorare in cerchio ma con giri di andate di ritorno questo perché ci permetterà di ottenere forse riuscite a vederlo qui una riga dritta quindi non farà difetto la riga di chiusura non andrà a torcersi e semplicemente proseguiamo in questo modo come abbiamo lavorato il pannello iniziale quindi maglia alta su maglia alta catenella di separazione e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al polso per questa taglia sono 44 giri potete adattare il lavoro come sempre a piacimento se volete anche realizzarlo a manica corta ad esempio oppure se volete andare a creare una manica che si allarga dal gomito in poi effettuate alcuni giri di aumenti se invece preferite un lavoro come il mio quindi con la manica un po più aderente che rimane attaccata al corpo per intenderci semplicemente lavorate punto su punto per il numero di giri necessari terminati 44 giri per ogni manica abbiamo concluso il nostro progetto quello che rimane da fare è nascondere tutte le codine che abbiamo lasciato in giro il progetto come avete potuto vedere era veramente molto molto semplice e anche divertente da realizzare lo possiamo adattare a qualsiasi misura a qualsiasi taglia a piacimento anche per quanto riguarda le maniche che possono essere anche corte oppure possiamo realizzare un pannello più lungo andando a creare una vera e propria maglia vi lascio con alcune foto che potete visualizzare con un po più di calma sia su facebook che su instagram i link li trovate nell'info box e vi saluto alla prossima